qua ragazzi oggi giornata spettacolare innanzitutto l'argentina ha vinto 1 a 0 oggi c'è Berettini stasera c'è l'Italia stanotte McGregor si è fatto male al ginocchio ha cominciato a insultare tutti stanotte ci sono anche i Phoenix contro i Milwaukee volevo anche dirvi che ho perso peso due giorni fa ero 104 e 2 oggi sono 104 piano piano the british are coming the british are coming wait it's the Italians the Italians are coming this is gonna be so much better than the tea party notti magiche inseguendo sotto il cielo di un'estate in Italia l'altro aspetta vitaminale due buon beer anzi famo anche tre va questa è la vita da bombe sogno una vita da bombe lo stadio vuole il suo bombe la rete esclode con bombe bombe la vita da capire e che ti è è finito il radio sto correndo a casa perché sta uscendo l'ultima puntata di casa pagani speciale Euro 2020 con tutti questi ospiti quindi mi raccomando fate su ipap per vederla siete troppo forti ma chi c'è cosa è il secondo platini mi sa il platini il secondo però Ronaldo ha vinto ha fatto già 14 cose sapete quello ha fatto campioni d'Europa campioni d'Europa campioni d'Europa mitra matri siamo campioni d'Europa buon nazionale è il compleanno campioni d'Europa mesteggia vai gintoni come gintoni stai calmo Ale stai calmo bravi raga bravi bravi raga Ale non dire cazzate Ale ma bravi 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 che gioia ragazzi ci avete dato una gioia incredibile che vede grande gioia ragazzi I campioni d'Europa! Non sei felice? Perché non è felice? Ancora sto gintone! Quanto bevi? Guardate un nuovo! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! E ti 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 Grazie a tutti Grazie a tutti